Malcesine, Malcesen in Veneto, è un comune della provincia di Verona, i cui abitanti sono detti Melsinei o Malcesinesi e il patrono è Santo Stefano. Nota località turistica sulla sponda veronese dell'Alto Lago di Garda, vanta il riconoscimento turistico ambientale Bandiera Arancione con feritole dal Touring Club italiano e fa parte dell'associazione i borghi più belli d'Italia. Nel 1786 Goethe fu costretto a fermarsi a Malcesine e decidendo di sfruttare la sosta per disegnare il castello scrisse in quel momento per fortuna il sole mattutino metteva in magnifica luce la torre, le rocce e le mura, sicché presi a descrivere con entusiasmo lo splendido quadro. Tutti volsero il capo a guardare con i loro occhi ciò che io decantavo ai loro orecchi. Gli abitanti di Malcesine, insomma, attraverso Goethe vedevano con occhi nuovi il loro paese, prendevano coscienza della sua bellezza, riscoprivano il loro paese, il loro scenario, gli ridavano un valore ed un significato perduti nella consuetudine quotidiana. La capacità di ammirare e vedere proprio dei pittori, poeti, narratori che si sono susseguiti nel corso del tempo, unita alla natura, all'architettura e alle tradizioni, hanno determinato quel genius loci che caratterizza il piccolo borgo. La prima comparsa del toponimo risale al 9 settembre 844, quando il termine manessicelles risulta nel testamento dell'arcidiacono pacifico con il significato di ai sepolcri dei morti. Tale significato sarebbe anche corroborato dal ritrovamento di alcune sepolture in stile etrusco nei dintorni dell'abitato. Poi, nel corso dei secoli, si succedettero molte varianti documentali. L'etimologia del toponimo è tuttavia incerta, ruotando intorno all'interpretazione di male siceles o mala silex, come pietra ostile o cattiva pietra, riferendosi probabilmente alla morfologia del territorio caratterizzata da monti scoscesi che si elevano sul lago, o come cattiva strada selciata di origini romane. I primi dati storici, invece, sono riscontrabili intorno al 500 a.C. e fanno riferimento ad insediamenti fissi ed organizzati di popolazioni di origine etrusca ed altre genti più o meno stanziali, successivamente inglobati dopo il 15 a.C. nel dominio di Roma. Una prima edificazione del castello sopra i resti di precedenti fortificazioni sembra sia databile intorno alla metà del primo millennio, per opera dei Longobardi. Nel 509 d.C. il castello venne parzialmente diroccato e successivamente ricostruito dai franchi, dopo aver sconfitto le armate Longobarde. Dal 1277 al 1378 Malcesi ne passò sotto i della scala che eseguirono lavori di ammodernamento e rinforzo della fortezza, per cui venne poi definita Castello Scaligero. Dopo il dominio dei Visconti di Milano, che fu tra il 1387 e il 1403, Malcesine, con l'esclusione di brevi periodi degli imperiali dal 1506 al 1516 e dei francesi dal 1797 al 1717, fu governata dal 1405 al 1797 dalla Serenissima Repubblica di Venezia, che amministrò con saggezza e competenza, istituendo per il controllo del territorio un organismo denominato la Gardesana dell'Acqua, che aveva sede proprio a Malcesine, nel Palazzo dei Capitani.